lo sai che la tua chiperina 500 se ne prendi due diventa mille lo sai che se tu prendi sei e lo moltiplichi per due diventa dodici lo sai che 4500 Se lo dividi per nove mezzi, diventa mille. Lo sai che se tu prendi cinque tacchi per inna cinquecento, diventa duemila e cinquecento. Fa un po' che sto cercando casa qui a Bologna nella quale trasferirmi. Ne avevo trovata una bellissima, era tre settimane che la avevo fissata e l'agente immobiliare, il padrone di casa, mi hanno detto che non si fidano abbastanza del mio lavoro. Grazie.